...cattolico in quella guerra dei trent'anni che poi è terminata con la battaglia di Cosa, una delle battaglie più cruciali che è stata più cruente, che è stata quella di Villa Ora. Perchè, appunto, che grado... ...è la ricorda. John Lerons Wall. ...mandata a Roma, dichiarata in Somma Santa, Grazie a tutti. Grazie a tutti.